Non per discutere, ma non rientra nei parametri della missione. Beh, siamo passati da ricognizione a salvataggio quando abbiamo trovato soldati americani massacrati. Bisobbedire agli ordini, bello. Ordini da non seguire, se vuol dire lasciar morire la gente, Lugo. Se Conrad è ancora vivo, e credo che lo sia, so che sarebbe d'accordo. Le tracce finiscono qui. Direi che è il nido. Già, pittoresco. Molto post-apocalittico. Non siate imprudenti. Ricordate, questi hanno già eliminato quattro soldati e ne hanno rapito un altro. Attenti, c'è della sorveglianza. Di sotto, la passerella. Stendilo. Siamo sotto a secco! Adesso sanno che siamo qui. Granate. Un sacco. Qualcuno fa provviste per l'inverno. Diamo via quello che possiamo. Perché spiegarli? Al riparo. No! Aprile il fuoco! Riparatelo giù! Disperdetevi o morirete! Non so, non so! Non so! Non so! Guardate! Accrocia l'attore! Ah, dannazione! Buon culo! Sono blocchiato qui dentro! Oh! Cazzo! No! Dite! Decide! Non so! 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 Mi muovo! Mi muovo! Entrate! Pesce col fucile! Ovviamente lo farà a pezzi! Li vedo! Abbiamo le granate, usiamo! Disperdetevi! Ovolirete! Attenzione! Disperdetevi! Ovolirete! Versaglio a terra! È in carico! Entro! Via, via, via! Cazzo! Seguitemi! Ehi! Sentite la musica? Chi se ne frega! Zitto e combatti! Neutralizzato! Versaglio neutralizzato! Attenzione! Unc'è il bacio a te! Ambrancherò! Sono con la tappa 47! Uccidi questi strassi! Aspagnate voi! La caccia! Non attacco niente! Bregatemi! Presto! Presto! Confruttelabete! Stronzi! Fatemi vedere che cosa sapete fare! Sono ora su un giro! Un minuto! Colpiteli con un arrabbici! Lo lavoro! Cambio posizione! Di nuovo! Copriteli cazzo! Lancio una granata! Scorrete cazzo! Nemico a terra! Danco a terra! Ok, devo ricaricare! Siamo al sicuro! Ok, continuiamo a muoverci! A dove diavolo viene quello? Questi altoparlanti sono costruiti con pezzi di ricambio come il segnalatore Ok, gente! I vostri posti! Il Gobbo è pronto? Ah? Tony! Che diavolo signore! Cosa c'è? Il Gobbo dice che diciamo alla gente di rimanere a casa e aspettare le forze di evacuazione Che storia è? Non ho visto arrivare nessuna notizia riguardante forze di evacuazione Leggilo, sorridi e basta! Ti paghiamo per questo! Tony! Non è corretto! Sono una giornalista! Gli spettatori si fidano! Dai un paio di tette che sanno leggere il Gobbo! Dai la notizia o troverò qualcun altro! Ora, in onda! Tra 5, 4, 3, 2, 1 Ora, in onda! 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 Notizia fresca! L'attacco ingiustificato di oggi contro il trentatreesimo significa, l'avrete capito, la fine della tregua. Tutti i ribelli che vogliono arrendersi si rivolgono al più vicino avamposto per la procedura. Ora torniamo alle normali trasmissioni previste. Ecco, si parte! Lasciatemi dire che la situazione è ancora più strana. Strana un cazzo, è fuori controllo. Non solo c'è gente qui, ma c'è anche un fottuto DJ. Dobbiamo chiamare la base, subito. Non ancora, a Conrad e al trentatreesimo serve aiuto. E questo soldato può portarci da loro. Quando sapremo che il trentatreesimo è al sicuro, chiameremo l'evacuazione. E' il bomba sanzio, ora! Dicca! Sono blocchato qui dentro, non faccio more! Verso il mio permetto! Ricarico, copritemi! Attenti, tizio col fucile verso di noi! Ah, dannazione! Fa un c***o! Tango a guerra! Non c***o, non c***o, non c***o! Che s'ha fatto, ma non c***o, è timoroso, tui c***o! Tra fuori con l'arco! Oh, merda, figlio di broia! Sono blocchato qui dentro, non faccio muovermi! E' il c***o! E' il c***o! E' il c***o! Mi copro lì, ora muovetevi! Vai, vai! Vai, vai! Vimovire il Pinito! Oh, un belio di traglia, d'accordo? Oh, un belio di traglia, d'accordo! Vimovire il Pinito! Dove diavolo sono andati? È stato troppo facile, ragazzi. Occhio! Ricevuto. Gesù Cristo, via, via, via! È una fottuta imboscata! A riparo! C'è del movimento! Versaglio a terra! Nel movimento a terra! Lancio una granata! A destra! Ricarico, copritemi! Versaglio a terra! Secondo piano! Altri nemici in arrivo dalla duna! Inganciare! Alberto, vai a riparo, dannazione! Merda, amico! Siamo sottofondo pesante! Ehi, figlio di puntare! Non capite, vanno a smettere! Risparghi a piatto e sparta! Peggiorando qua fuori voi! Calma e scegliete i versaggi! Non smette! Quella del cuore sta troppo vicina! Per restare tra i miei... E amico a terra! Ok, non capite! Siete fessati per ammazzarci tutti! Attenete la posizione! Aspettate l'occasione giusta! Lugo, attento! Il movimento cede! Lugo! 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 Lugo!